ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato agli effetti oggi andiamo sulla categoria trasparenza per vedere quello chiamato estrai nel software in inglese extract la sua funzione è quella di estrarre e quindi eliminare i pixel scuri e quelli luminosi da un'immagine ma vediamo di cosa si tratta e ci portiamo su questa composizione dove abbiamo una fotografia con questa strada innevata costeggiata da questi alberi con il livello selezionato vado su effetto nella categoria tipo di trasparenza e clicco su estrai immediatamente nella finestra di controllo sarà apparso un istogramma simile a quello dell'effetto livelli con la sostanziale differenza però che non servirà per regolare i valori di luminosità ma bensì eliminare delle porzioni dell'immagine sotto il grafico abbiamo la barra che ci mostra l'intervallo tra i pixel chiari e scuri dove la quantità è rappresentata dal grafico superiore dove è piuttosto evidente la dominanza di quelli bianchi ai margini della barra abbiamo due piccoli quadrati che come delle maniglie possono essere tirate per ridurre la quantità dei pixel scuri o quelli chiari se per esempio volessimo eliminare quelli scuri allora prenderò il quadratino superiore sotto i neri e lo sposto verso i bianchi in questo modo le tonalità che dal nero vanno al grigio presenti nell'immagine verranno eliminate e se attiviamo la griglia di trasparenza possiamo vedere come abbiamo letteralmente buccato l'immagine la stessa cosa succede all'opposto se vogliamo eliminare i pixel luminosi allora prenderò il quadratino sopra la barra del bianco e lo trascino verso i neri tuttavia l'estrazione di questi pixel può creare dei bordi troppo netti su quelli visibili a schermo ecco che il quadratino sotto permette di ammorbidire questa estrazione grazie a una sfumatura e questi quadratini oltre che trascinarli con il mouse possono essere modificati attraverso le rispettive proprietà infatti il punto nero corrisponde al quadratino superiore dei neri che se modificato dai suoi parametri si aggiorna anche sull'istogramma lo stesso vale per il punto bianco mentre la morbidezza nero e bianco corrispondono al quadratino inferiore per gestire la sfumatura in più abbiamo una casella che ci permette di invertire questa sorta di mascherino e questo effetto prende come riferimento per impostazione predefinita il canale di luminanza e che dal suo menu a tendina possiamo cambiare con i canali rgb per ottenere un'estrazione più accurata come vedete questo effetto è piuttosto semplice dentro ciò vediamo qualche esempio pratico e passiamo su questa composizione dove ho scaricato da google un'immagine di goku dove vorrei eliminare lo sfondo bianco per rendere l'immagine come se fosse un png per cui senza dover aprire photoshop lo faccio direttamente da after quindi gli aggiungo l'effetto estrai dove possiamo vedere un bianco e nero puro perché abbiamo valori di 255 e 0 dei rispettivi parametri ora mi basterà cambiare il valore di luminanza o trascinare il cursore del bianco verso il nero ed essendo uno sfondo bianco puro ci basterà portare i valori attorno ai 250 e vedrete che sarà già sufficiente per eliminarlo completamente e in un attimo abbiamo ritagliato la nostra immagine per isolare poi il riempimento degli occhi che ora sono trasparenti basterà duplicare il livello eliminare l'effetto e creare una maschera sul viso facciamo un altro esempio e ci portiamo su questa composizione dove abbiamo un video se ora volessi applicare un testo che si sposti dietro le montagne allora dovrei usare le tecniche per la sostituzione del cielo che abbiamo imparato nelle lezioni 166 e 167 oppure potrei usare l'effetto estrai vediamo come come prima cosa inserisco un testo e digito la parola rock con una dimensione attorno ai 96 e un font come il gotham black e lo vado a posizionare poco sopra la metà duplico il livello con il control d e lo porto in cima adesso tramite fx console aggiungo l'effetto estrai ora quello che dobbiamo fare è bucare il cielo per rivelare il testo sotto e siccome è quello con i pixel più luminosi prendo il parametro del bianco e lo abbasso e piano piano iniziamo a intravedere il testo ma anche alcune parti della roccia che vengono cancellate e direi di fermarci attorno a un valore di 100 101 se lo portiamo poi in solitaria possiamo vedere grazie alla griglia di trasparenza le porzioni eliminate di conseguenza una perdita di dettagli piuttosto consistente oltre al cielo che ancora non è del tutto pulito torniamo quindi sulla vista generale e concentriamoci sulle lettere del testo che siano completamente bianche per cui possiamo provare a cambiare il canale di estrazione che si trova su luminanza e proviamo con il rosso che ovviamente peggiorerà la situazione visto i colori sul video poi con il verde che non è ancora del tutto soddisfacente ma quando andiamo sul canale del blu otteniamo una perfetta pulizia e dettagli che possiamo ottimizzare con una sfumatura tramite la morbidezza del bianco portando il suo valore attorno ai 27 possiamo poi contrastare meglio il testo inserendo se vogliamo un effetto curve su entrambe le copie del video e se volessimo poi che il testo si sposti insieme all'inquadratura ci basterà tracciare la scena e agganciarlo e durante il vostro lavoro di compositing potrà capitare di voler estrarre parti chiare impossibili da contenere con maschere e tracciarle come per esempio la schiuma bianca del mare da usare come una texture o mascherino traccia o ancora per simulare il passaggio di un qualcosa che solca il mare in più possiamo ancora utilizzare questo effetto per estrarre nuvole bianche da applicare su altri fondali di cielo per ottenere profondità tridimensionali bene ragazzi anche per questo effetto è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao